Noi vogliamo che tante imprese che in passato hanno delocalizzato e sono andate all'estero, magari anche in paesi dell'Unione Europea, così con un po' di sano campanilismo vorremmo farle tornare in Italia a produrre, perché i nostri giovani devono poter lavorare nel territorio, giovani e meno giovani deve poter investire nel territorio in cui noi cresciamo, che è la nostra terra, che è l'Italia, che è una bellissima nazione che vogliamo valorizzare. Sono numeri, non sono solo chiacchiere e è un primo segnale positivo. 44 mila nuovi posti di lavoro e 0,2% di PIN. Ma scusami, se hai finito lo spot pizza mandolini tornate in Italia, noi abbiamo avuto 14 trimestri consecutivi di cresce affinché non siete arrivati voi al governo. Nel 2017 si cresceva all'1,7%. La produzione industriale nel 2016 e 2017 è cresciuta più di quella della Germania. L'export nel 2017 è cresciuto più di quella della Germania. Da maggio abbiamo perso 35 mila posti di lavoro, di cui 19 mila posti di lavoro a tempo indeterminato. Chiedo alla redazione di controllare ciascun numero che ho appena citato. Quindi io sono stato piuttosto gentile, perché quando c'è un dato positivo uno deve sempre dire l'avevate messo il paese in recessione, meglio non in recessione che ha più 0,2%. Però non è che tu sei severo con te stesso, tu sei molto indulgente quando fai uno spot di questo tipo. Aggiungo una cosa sulle delocalizzazioni. Oggi, e io me ne sono occupato, l'80% delle delocalizzazioni va verso i paesi di Visegrad, cioè l'Ungheria dove sta oggi Salvini, insieme alla Slovacchia, insieme alla Polonia, cioè i vostri principali alleati europei. Se la smetteste per un secondo di fare questo rumore di sottofondo, vi occupaste dei problemi veri, forse riusciremo a risolverli. Nel decreto crescita l'unico provvedimento che viene valutato dalle imprese di una qualche importanza è la reintroduzione del superammortamento che io ho messo nel pacchetto impresa 4.0 e che voi avevate cancellato. Cioè non è rimasto vivente? Questo è il film... Calenda, non è del suo piano nazionale? No, no, è rimasto, ci mancherebbe. Mi dice che cosa è sopravvissuto di quel piano, poi Morrone... È sopravvissuto, depotenziato l'iperammortamento, il credito di imposta, ricerca e sviluppo ed era stato cancellato il superammortamento che adesso è stato rimesso. Stop. Stop. Morrone può replicare, ovviamente. Sì, no, io non volevo fare arrabbiare il candidato Calenda, ci mancherebbe altro. Salvini oggi è da Orban, sicuramente per parlare di temi più legati all'immigrazione. Matteo Salvini è il primo misto dell'interno che è stato in grado di bloccare un'immigrazione clandestina, un'immigrazione irregolare su un territorio, cercando invece di far passare un'immigrazione regolare. Ma questo per mettere al confine, per mettere al sicuro quello che sono gli italiani, per mettere al sicuro quelle che sono determinate zone e situazioni di grado. ricordiamo l'ultimo dato che quando il PD, quando i colleghi del candidato Calenda erano al governo, erano 5 miliardi stanziati, circa 4,8 miliardi stanziati, voglio essere corretto, per l'immigrazione. Noi abbiamo bloccato questa immigrazione, bloccando in particolare quella via mare, perché l'Italia è un paese che comunque con tante coste ha naturalmente, oggettivamente, più un'immigrazione via mare. Orbán è riuscito a bloccare un'immigrazione via terra, quindi l'incontro di oggi è stato fatto per scambiare quelle che sono sicuramente idee, progetti, un percorso comune, un percorso che va in alternativa, in opposizione a quello che è stata l'Europa fino adesso. Noi abbiamo un periodo democratico che ha sempre sostenuto l'Europa con l'alleanza franco-tedesca, quindi fra francesi e tedeschi. Noi pensiamo a un'altra Europa, un'Europa che difenda i propri confini, un'Europa nel nome di quello che è la cristianità, un'Europa che è quella di salvare e salvaguardare quelli che sono i nostri prodotti agricoli, salvare il nostro prodotto interno lordo. È un altro tipo di Europa che noi cerchiamo di immaginarci e quindi l'incontro di oggi è per questo motivo qua. Per quanto riguarda politica economica, penso che ci sia la flat tax, che è qualcosa che va estremamente a favore dei piccoli imprese. Ma dove è la flat tax? A parte che Conte ha detto che non è il momento, sottosegretario. Non sentivo, non voglio interrompere. Ci mancherebbe. C'è una grande confusione. Un secondo dopo, adesso siamo passati sul versante cristianità dopo quanto è bella l'Italia. Allora, uno, i miliardi spesi per gestire l'immigrazione sono quelli gestiti per l'integrazione, per gestire i migranti e non farli andare in giro per strada, cosa che voi avete fatto chiudendo gli Sprar. Secondo, noi siccome pensavamo e pensiamo che i migranti rimangano 500 mila e non 90 mila, ricordo che Salvini prima ha detto che erano 600 mila, poi ha detto che li rimandava a casa in sei mesi, poi ha fatto meno rimpatri di Minniti e poi ha detto che erano 90 mila. Se io avessi avuto un dipendente nella mia azienda che faceva un piano, diciamo, di lavoro in questo modo, l'avrei mandato a casa a calcioni nel sedere. Detto questo, il tema qui non è l'Europa cristiana o non cristiana, è questo. I paesi di Visegrad sono quelli, con quiz ed alleati, che ci rubano gli investimenti, fanno dumping fiscale, fanno dumping sociale, non vogliono l'austerità più assoluta, tant'è che pure Di Maio l'ha ricordato oggi a Salvini. La vostra alleata, la Le Pen, vuole, a proposito di agricoltura da difendere, la cancellazione della PAC, della politica agricola comune. Lei è d'accordo con la cancellazione della PAC, della politica agricola comune? Guardi, io non abbiamo mandato a casa nessuno, l'unici che hanno mandato a casa in questo momento sono stato il popolo italiano che ha mandato a casa voi del governo, evidentemente perché vi ha trovato inadeguati per gestire... No, lo so che non avete mandato a casa nessuno, non avete fatto i rimpatri. Il 4 di marzo scorso vi ha mandato a casa perché vi ha trovato inadeguati a gestire il fenomeno migratorio. Sei d'accordo con la Le Pen che vuole cancellare la PAC? Lei naturalmente è un'azienda, io sono molto più territoriale e seguo molto più le piappe che altri tipi di territori. Va bene, allora, scusate vi interrompo, Marco, ma volevo fare una domanda. No, ma io volevo tornare un attimo su quelle immagini che abbiamo visto di Salvini lungo quel muro filospinato in Ungheria per ricordare che l'Italia è dall'altra parte di quel filospinato, per cui il fatto che la Francia e la Germania non abbiano preso in questi anni tutti gli immigrati che si erano impegnati a prendere e che dovevano prendere non nasconde il fatto che l'Ungheria non ne ha preso nemmeno uno né ha intenzione di farlo. Quindi dal punto di vista dell'interesse nazionale italiano, e chiedo a Morrone di commentare questo che è un dato di fatto, allearsi con i più duri anche in tema di gestione dei migranti forse non va incontro agli interessi dell'Italia o sbaglio. Ma io vedo quelle immagini, come ricordo bene, l'immagine è il confine con la Francia, nel senso che noi ci siamo trovati a gestire un fenomeno lasciati da soli da quello che è il governo europeo, questo è sotto gli occhi di tutti. Certo è che siamo riusciti finalmente a bloccare quello che è un arrivo di immigrati e stiamo cercando di sveltire quelle che sono le procedure per far sì che chi non ha diritto di rimanere nel nostro territorio possa tornare sul paese di origine e possa invece entrare nei paesi dell'Unione Europea e degli italiani chi ne ha veramente diritto o con un regolare canale, perché questo penso sia la legalità e la giustizia. Quello è un muro quello di Orban, ma ce ne sono tanti alti, ce ne sono oltre 30 in Europa di muri. C'è ad esempio quello che divide, se non sbaglio, il Marocco dalla Spagna, dove anche la Spagna ha avuto governatori non certamente anche filoleghisti, ma che comunque hanno ottenuto quello che era un muro. Ecco, io il muro reticolato che sia lo intendo come un qualcosa per sfavorire l'immigrazione irregolare, l'immigrazione clandestina, l'immigrazione pericolosa di persone che effettivamente qualcuno naturalmente, laddove possono cercare e scappano dalla guerra, vengono accolti, laddove invece entri nel nostro paese delinquenti, terroristi o altro, vanno fermati, ma per tutelare i nostri cittadini. Però l'Ungheria non partecipa per nulla al ricollocamento degli immigrati che arrivano in Italia, quindi questo è un problema, se tutti facessero come l'Ungheria noi saremmo messi ancora peggio, mentre per esempio la Germania ne ha accolti molti, poi potrebbe fare di più rispetto all'Ungheria, siamo già a numeri molto positivi. A livello economico non ricordo una grande mano dell'Unione Europea, nei quei 5 miliardi di euro, se non sbaglio, l'Unione Europea si è aiutata per qualche centinaia di milioni di euro, quindi un aiuto irrisorio, un aiuto minimo e poi ricordiamo anche diverse casistiche quando arrivarono determinati barconi, poi effettivamente qualcuno voleva accogliere e questi poi scappavano dai luoghi dove venivano ospitati, quindi bisogna verificare un attimo laddove effettivamente c'è un migrante profugo che necessita aiuto perché scappa dalla guerra o laddove c'è un migrante economico, sono due situazioni completamente differenti, io sono per investire, spendere i grani migranti nel suo Paese di Ritmi. Volevo solo dire una cosa, lei ha detto correttamente che l'Unione Europea ci dovrebbe aiutare sui migranti, giusto? Che non ci ha aiutato, ho detto che non ci ha aiutato. No, 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 scusi, che non ci ha aiutato quindi auspica che ci aiuti. Ora, peccato che l'Unione Europea non ha la competenza sui migranti perché gli stati membri dell'Unione Europea, prima fra tutta l'Italia del vostro governo, ha votato contro il fatto che l'Unione Europea abbia la competenza sui migranti. Quello che si cercava di spiegare è questo, noi siamo uno Stato di primo arrivo perché siamo sulla frontiera dell'Africa. Il nostro interesse dunque è che ci sia una gestione europea dei migranti, a ciò che i migranti che arrivano in Italia possano essere ricollocati negli altri Paesi. Se tu fai l'alleanza con i Paesi che più di tutti sono contrari a questo, ti stai facendo male da solo, tant'è che voi avete votato in Europa contro la revisione del Trattato di Dublino che stabilisce che la responsabilità su tutti i migranti che arrivano in Italia è solo nostra. Allora, quello che io le suggerisco è, se lei ritiene come giusto che l'Unione Europea ci debba dare un supporto maggiore, deve cambiare orientamento al governo italiano e dire ci vuole più Europa nella gestione dei migranti perché oggi l'Europa non ha questa competenza. Io la ringrazio per il Consiglio e ne farò tesoro sicuramente, però io la penso un pochino diversamente. Effettivamente il fenomeno di migrazione è stato bloccato da questo governo l'estate scorsa con le critiche di tanti anche paesi europei, di tanti leader, dell'opposizione, ricordo che quando noi abbiamo fermato i primi sbarchi sembravamo quasi criminali, poi effettivamente ci si è accorti che bloccando gli sbarchi si è interrotto il numero di morti sul Mediterraneo, c'è stata un'immigrazione più regolare che è arrivata con degli aerei accogliendo persone che effettivamente avevano realmente bisogno, si è bloccato il degrado, si è cercato, però io non l'ho mai interrotta, le chiedo scusa, l'ho ascoltata anche quando lei diceva cosa che non vera è se dal mio punto di vista non l'ho interrotta, adesso per cortesia mi faccio terminare e poi l'ascolto tutto il pomeriggio e d'altronde abbiamo anche eliminato, le ricordo, tante zone di degrado, tanti centri profughi che contenevano migliaia e migliaia di aspiranti profughi perché non erano ancora profughi, perché non era passato il vaglio da parte delle commissioni, abbiamo aumentato in numero quelle che sono quelle commissioni per far sì di sveltire questo procedimento, per capire se una persona aveva il diritto di rimanere questo territorio e rimanerci, abbiamo eliminato il degrado da questi centri come in Puglia, come nel Lazio, dove creavano sicuramente degrado non solo per gli stessi abitanti che avevano sottoposte a condizioni di vita non dignitose, ma anche per i paesi, per i cittadini che abitavano nelle zone limitrofe, ecco questo è quello che ha dato il cambio di rotta di questo governo, in termini di sicurezza, sia per gli stessi migranti che per i cittadini che devono conviverci. Va bene, allora io, siate buoni, consentitemi di andare avanti. Allora, vorrei tornare sul tema lavoro, sul tema lavoro, sui programmi, sulla questione ad esempio del salario minimo che sta a quanto pare molto a cuore e ai 5 Stelle ma anche al Partito Democratico e vorrei riprendere da qui sul salario minimo perché tra l'altro ricordo quando era ministro, insomma, più che di salario minimo diceva se ne può discutere ma preferisco, insomma, un reddito legato alla produttività, diceva... Beh, no, ci sono due punti. Quello che è fondamentale per far crescere i salari e legare i salari alla produttività. Oggi l'emergenza vera del paese sono i salari. Noi abbiamo salari molto più bassi di quelli francesi e enormemente più bassi di quelli tedeschi e non era così. Dunque, noi quello che abbiamo fatto sono stati gli 80 euro. Gli 80 euro di fatto hanno aumentato i salari netti bassi in Italia del 10% nella scorsa legislatura. Un primo pezzettino è la prima volta che succede. Gli bisogna fare molto di più. Si fa in due modi. Uno incentivando i contratti di produttività, cioè la parte di salario che è legata alla produttività che noi avevamo defiscalizzato con i premi di produttività. L'altra componente che è la componente importante è coprire quelli che non hanno un contratto, che sono circa il 20% dei lavoratori italiani. E si può fare in due modi. Estendere la validità dei contratti nazionali, cioè dire un contratto nazionale che, ne so io, delle telecomunicazioni vale anche per i rider perché c'è una somiglianza. Oppure fare il salario minimo. E bisogna stare molto attenti, perché il salario minimo ha una tendenza a schiacciare in basso tutti i salari. Quindi la mia prima scelta sarebbe quella di allargare i contratti nazionali, la validità dei contratti nazionali. Però se non si riesce a fare il salario minimo è comunque una prima risposta. Ok, senta, invece sull'IVA come la pensa? Perché abbiamo sentito, ecco, ritornando alle proie del Movimento 5 Stelle. No, Marco, cuneo fiscale, l'IVA non aumenta. Sì, soprattutto dovendo scegliere, perché è chiaro che se ci fossero 100 miliardi a disposizione si farebbe tutto. Allo stesso governo che ora, diciamo, nelle sue varie componenti propone un po' tutto in campagna elettorale, sarà costretto a scegliere. Il PD, lei in particolare, su cosa punterebbe i pochi soldi? Se io avessi domani mattina, diciamo, la bacchetta magica, quello che farei è cancellare quota 100, che è una roba che non ha nessun senso, perché sono 28 miliardi di euro, cioè 750 euro al lavoratore pensionato, per mandare in pensione da 650 al milione di persone. Quindi è una roba che non ha proprio senso. Piuttosto quello che farei è ristrutturare il reddito di cittadinanza. Quello che farei è un intervento sui salari medi bassi, quindi sui salari più bassi, di defiscalizzazione. E dall'altro lato quello che farei è disinnescare massicciamente le clausole IVA, perché le clausole IVA hanno un effetto recessivo disastroso. Questo 01-02, ed è la ragione per cui i provvedimenti del governo sono giudicati dallo stesso governo inefficaci per la crescita, sono derivanti totalmente dalla componente estera. La domanda interna è stazionaria. Questo vuol dire che non ha nessun effetto, nessun tipo di misura presa dal governo per rilanciare la domanda interna. Per questo bisogna intervenire sui salari e bisogna evitare a tutti i costi di fare l'aumento delle clausole IVA. Questo è quello che farei domani mattina. Allora, velocissimamente prima di chiudere, al sottosegretario Morrone una domanda molto attinente alla sua carica. Per chiederle cosa intendete fare alla luce di quel rapporto annuale di cui abbiamo visto i dati della Commissione Europea sulla giustizia, che dice che l'Italia ha gli ultimi posti degli indici di fiducia e quasi un italiano su due boccia il sistema italiano di giustizia. Che cosa si fa quindi? Diminuire i tempi di giustizia è un obbligo per il governo. Noi abbiamo investito in capitale umano, si parla di, per quanto riguarda gli esigenzi della Polizia Penitenziaria, di oltre 1500, si parla di 600 nuovi magistrati ordinari, si parla di una riforma, della riforma Orlando che a breve vedrà la luce, che è già pronta al Ministero dopo un tavolo tecnico da me presieduto che vede la fine, vede finalmente la luce dove i magistrati in orari potranno svolgere e andare avanti con il loro ruolo tenendo in piedi quello che è buona parte il 60% di un giudizio di primo grado. Stringere quelli che sono i tempi di giustizia è per noi un obbligo e per noi un obiettivo. La riforma del processo civile, la riforma del processo penale, ma in particolare l'investimento in capitale umano. 3000 nuovi assistenti giudiziari che andranno all'interno delle nostre cancellerie per velocizzare il tema. Sono completamente d'accordo perché il servizio giustizia è importante quanto un servizio sanitario per un cittadino. Grazie, grazie al sottosegretario Morone per aver stato con noi, grazie a Carlo Calenda, grazie a nostro Marco Difonso e a voi per l'attenzione.